Un caro saluto a tutti i partecipanti a questo evento di oggi che si tiene presso l'Università di Roma 3 organizzato dal team di Micromega che presenta l'almanacco, un almanacco dedicato al tema quale scuola per quale società. Ho avuto modo di leggere il testo dei vostri contributi e li ho trovati particolarmente interessanti, anche di ampissimo respiro. Cosa molto importante perché la riflessione sulla scuola non può essere limitata alle emergenze, non può essere limitata all'ora e in questo momento e l'adesso, ma deve in qualche modo avere una visione di lungo termine. Trovo molto interessanti le valutazioni e le riflessioni sul ruolo della scuola nella società, sul ruolo della scuola anche come perno fondante di una comunità. Le riflessioni che hanno a che vedere con il sistema di finanziamento, con questa triste realtà che non è soltanto tipica dell'Italia, forse è un'ondata che ormai ha colpito tutte le società avanzate di definanziare, sottofinanziare il mondo dell'istruzione e dell'educazione, che noi oggi in Italia viviamo con particolare difficoltà perché dopo tanti anni ci rendiamo conto che stiamo minando il futuro di un'intera generazione se non più di una. E poi anche le riflessioni che hanno a che vedere con il sistema di valutazione. Io sono molto convinto che la valutazione sia utile, ma deve essere efficace e deve essere soprattutto invisibile, nel senso che non deve intromettersi nel funzionamento delle istituzioni scolastiche. Noi spesso rischiamo, questo l'abbiamo visto negli Stati Uniti per oltre un decennio, che la valutazione divenga uno strumento fino a se stesso, che le scuole si preparino per il test di valutazione e smettano di preparare per la vita e per la conoscenza. Ecco, questa è una deriva che dobbiamo assolutamente evitare perché altrimenti rischiamo di trasformare il sistema al contrario, la coda che guida il cane, mentre la valutazione deve essere uno strumento utile al miglioramento, non deve essere uno strumento burocratico fine a se stesso. Le scuole vanno liberate, le scuole vanno messe nelle condizioni di poter essere se stesse, di poter essere una vera comunità, una comunità civica che fa della conoscenza e della formazione un elemento di emancipazione diffuso. Sembra forse una banalità dire che dobbiamo formare cittadini consapevoli, ma questa è la ragione e l'obiettivo dell'istituzione scolastica. Diceva Piero Calamandrei che la scuola è la più importante istituzione di un Paese, è più importante del Parlamento, è più importante della Corte Costituzionale, è più importante anche della magistratura perché è nella scuola che si costruisce una comunità. La scuola è fondamentale, lo è sempre stato e lo è ancora di più oggi, che ci troviamo di fronte ad una grande trasformazione di carattere tecnologico e industriale e il nostro Paese rischia di non avere gli strumenti anche concettuali per governarla. Questo è fondamentale, essere in grado non soltanto di adattarsi al cambiamento, ma di guidarlo questo cambiamento, guidarlo in una direzione desiderabile. E quindi a me fa molto piacere che in questi mesi ci siano state delle mobilizzazioni studentesche che riportano attraverso la scuola dei temi così fondamentali come la sostenibilità, il futuro, i cambiamenti climatici, le emergenze di una generazione al centro del dibattito politico e sociale. È così importante che la scuola possa essere un'istituzione che permette il dialogo, permette la riflessione, anche per liberarci da questo dominio imperante delle fake news, una società paradossale, quella in cui forse non abbiamo mai goduto di un livello tecnologico e scientifico pari ad oggi e al tempo stesso dilagano l'ignoranza, dilaga la credulità, dilagano una serie di tensioni nella società che sembrano presagire a un nuovo medioevo. Ecco, noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada e questo lo si fa rilanciando la scuola, rilanciando coloro che vivono la scuola, rilanciando coloro che operano all'interno della scuola, rilanciando l'istituzione come tale e mettendo lo studente e la sua necessità di apprendimento, ma anche la sua necessità di partecipazione, perché non c'è apprendimento senza partecipazione, al centro della programmazione politica del Paese. Questa è una grande sfida e un convegno come il vostro, che permette ad una serie di intellettuali, di operatori del settore di confrontarsi su queste tematiche in modo libero, aperto, anche innovativo, è estremamente, estremamente utile. Utile a tutti, utile al mondo dell'università, al mondo della scuola e anche al mondo dei legislatori, come il sottoscritto, che ha bisogno di confrontarsi costantemente con un mondo in rapida evoluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.